In Toscana riapriranno a partire dal 18 maggio e dentro comunque il primo giugno i centri diurni per le persone con disabilità, chiusi a seguito dell'emergenza coronavirus. Con l'entrata in vigore del decreto del governo sulla fase 2 è stato autorizzato il ritorno in attività anche di queste strutture. La regione toscana ha così definito un protocollo operativo sulla gestione in sicurezza dell'intero percorso di riapertura, stanziando un contributo economico da 3 milioni di euro per l'adozione di tutte le misure necessarie per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. I 3 milioni di euro assegnati alle ASL serviranno anche a riorganizzare e riqualificare il personale. Il protocollo definisce anche la frequenza dei centri da parte degli utenti, le modalità di trasporto ed ingresso, gli screening sierologici, la formazione del personale, la comunicazione e l'assistenza per il coinvolgimento delle famiglie.